Siamo una grande impresa, un'impresa che ha una grande componente di servizi ad alto contenuto tecnologico. Abbiamo bisogno di avere risorse qualificatissime, sempre aggiornate sulle innovazioni che la tecnologia ci offre tutti i giorni. Abbiamo bisogno in un mercato liberalizzato nel quale competiamo tutti i giorni di avere le professionalità utili per stare sul mercato e questo ci ha indotto a sviluppare i rapporti con le università target, gli istituti tecnici specializzati, facendoci conoscere, dando l'immagine di un'impresa, di un gruppo forte, stabile, capace di offrire qualità alle persone che con i loro studi si sono impegnati per poter poi mettere nel campo del lavoro le conoscenze acquisite e quindi questo probabilmente ci ha favorito nel fare questo salto che indubbiamente ci rende orgogliosi. I ragazzi nel nostro gruppo vengono trattati a livello di gruppo, quindi loro hanno un percorso in cui lavorano tutti insieme. Ovviamente ognuno è legato al proprio business, alla propria società, quindi il mestiere si costruisce nella società, ma a livello di gruppo c'è un percorso a partire dall'ingresso in cui girano insieme, vanno a vedere gli impianti. Questo è importante anche per chi sta nelle staff che magari non avrà mai occasione di vedere un impianto. Non è soltanto questo di girare insieme, ma è anche che conoscono tutti gli attori del gruppo, vanno gli amministratori delegati, i direttori a spiegare le strategie di gruppo, ma continuiamo a seguirle anche nei tre anni successivi perché fanno proprio dei corsi di tipo gestionale e manageriale, dagli economics di base all'organizzazione, ai processi, a project manager, a lavorare in gruppo. Questo alla fine dei tre anni c'è un momento di check, noi lo chiamiamo development center, è un momento in cui andiamo a vedere queste persone come sono cresciute, come si sono sviluppate e in funzione dei risultati creiamo percorsi diversi, cioè quello pronto ad essere buttato a mare e quelli che ancora devono essere eseguiti. Ecco, come si vede per noi, insomma, i giovani sono un investimento, al pari di tutte le altre nostre attività, degli investimenti che facciamo in tecnologia, quindi è un investimento sulle risorse perché deve avere un ritorno in termini di competenze, di managerialità, di capacità e anche personali. Ecco, noi tutto questo lo andiamo a raccontare ai giovani con entusiasmo e quindi forse è anche per questo che ci scelgono. La nostra strategia di employer branding è diversificata. Oltre a realizzare in partnership con le migliori università italiane percorsi formativi tesi ad avvicinare l'offerta formativa delle università alle esigenze del business, quali ad esempio master, seminari e workshop specialistici, attuiamo una strategia di comunicazione basata essenzialmente su due fronti, cioè andare noi nelle università a raccontare la nostra realtà e far entrare i ragazzi e i giovani nel nostro mondo. Cosa facciamo? Andiamo noi nelle università e organizziamo delle presentazioni aziendali ad hoc, partecipiamo ai migliori job meeting, ai career day, ai eventi di incontro con i ragazzi, in cui presentiamo le opportunità professionali nel nostro gruppo. Offriamo la possibilità di veicolare quella che è veramente la nostra realtà, una realtà di eccellenza innovativa e portiamo dei nostri testimonial, persone del Politecnico di Milano, laureate anni fa, magari Politecnici, Politecnico di Torino e che oggi ricoprono ruoli di responsabilità in azienda. Altresì realizziamo, presentiamo loro le opportunità e facciamo capire quali sono i mestieri ferroviari, quali sono le aree in cui possono essere spese le loro lauree e facciamo vedere loro che possono davvero mettere a frutto attraverso queste testimonianze le loro competenze e il percorso formativo che hanno seguito durante gli studi universitari. poi realizziamo una serie di altre iniziative più innovative, quali la realizzazione per esempio di competizioni universitarie, business game, per far entrare stage e altre collaborazioni per lo sviluppo di tesi di laurea, per far entrare i ragazzi nel nostro mondo e toccare con mano la nostra realtà. Hanno l'opportunità di sviluppare progetti concreti su temi di interesse anche strategico per il nostro gruppo ed entrare in contatto con l'eccellenza personale e professionale dei nostri manager. Tutto questo ovviamente viene modulato con canali di comunicazione che entrano maggiormente in sintonia con quelli utilizzati dai giovani e quindi ci muoviamo anche attraverso i canali web e da ultimo abbiamo realizzato e anche sviluppato una career page destinata al nostro gruppo su Linkedin.